Oggi siamo qua tristi perché come avete potuto leggere dal titolo Stone abbandona il canale Avete visto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi Stone è mancato molto nei video A tal punto che abbiamo deciso di abbandonare questo canale e Stone non continuerà più YouTube ma lo continuerò da solo Infatti c'è un nuovo canale mio in descrizione, iscrivetevi se non volete perdere nessun video Pesce d'aprile Ok ragazzi siamo qua nell'SG perché questo qua è un video di SG, non è il pesce d'aprile che abbiamo fatto Stone è ancora qua, fa video insieme a me ovviamente, mi sta frizzando Minecraft, cosa bella Comunque è incredibile che Stone sia negli SG, mamma mia da quanto mancava Stone, è incredibile Ok, ho riuscito a prendere i drop nonostante il freeze, ma mi continuo a frizzare, ma porco Abbasso un altro pochino la render, non lo so mi sta frizzando tantissimo e mi frizza ancora E dovrò chiudere il programma dopo mi sa Madonna basta frizzarmi, ce l'hai un'arma? No, oh via 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 Sono io, ah c'è un altro dietro, bello, io non lo vedo frizzarmi, che cosa bella eh Bellissimo Segue te, bene Ho trovato una spada, provo a darti una mano Stone fa il giro, fa il giro, ok ti ha lasciato, ti ha lasciato Ti ha lasciato sta, c'è un tizio là Madonna il freeze, io non posso combattere con sto freeze però Lo buttano in fuoco, si lo buttano in fuoco Combatti contro freeze Ok l'ammazzata, madonna sto freeze però Ok che siamo in fuoco per te Bene, mi sta inseguando uno, si laggiù in fondo Dove si è andato, ma basta frizzarmi Mi continuo a frizzare, bella roba Questo succede quando registri da più di un'ora e mezzo Un SG, perché, boh, gli SG non riusciamo mai a fare Spada in pieno Punto primo perché ci targettano, punto secondo siamo scarsi Punto terzo perché ci targettano E punto quarto perché non arriviamo mai tutte e due alla fine Piatis telmo e abbiamo i pesci Con i pesci se arriviamo al deathmatch facciamo la guerra di pesci in faccia Tanto che pesce d'aprile Dite la verità, ci siete cascati eh Comunque il server dove abbiamo fatto la scenetta È il server di titanetlp ovviamente in descrizione Potete trovarci a giocare alle fazioni Mentre questo server ovviamente è ArenaCraft Lo sapete benissimo Madonna che busto che ti ho dato Te gli fai un baffo a... Cioè, sei tamo e ti fai un baffo Eh certo Gheppo le gambali in legno Il lecca gambali, bello Mi piace il lecca gambali No, gambali in legno Gambali in legno ovviamente Esistono con le mod ma fanno crecare Gheppo Un'altra dammene una me Te c'è la spada in pietra? Sì ce l'ho Ce l'ho da navità la spada in pietra L'ho trovata subito Sei verso il mare? Verso il... Gli aeropop... Merda c'è uno No, tu cazzo sei Poi ho frizzo pure Io sono alle strade per far partire gli aeroporti Dopo il boschetto Ok, sono nel porto Mi vedi, mi vedi Mi sono accanto a te Mi sono accanto a te Ah, eccoti Che hai visto? Di là E vabbè, ma come cazzo hai fatto? Occhio di falco Andiamo dentro a Trenitalia Questo qua si chiama Trent Muore nel tren Ma muorici male Vabbè, nagheppo Qui mi sa che da qualche parte Vicino a quest'aereo c'era un crafting Qua la crafting Qua dentro Eh, eh, eh Andavo bene Tieniti lo stick E fatti la spada Dove sono gli altri? C'è da ammazzare Il tubero rimasto Oh, dietro, dietro, dietro No, ho buttato la spada in ferro Merda Ripigliatela Madonna Meno male che mi sono messo in F5 Sto frizzando e lo ammazzo No, l'ho fatto overflyare Dove cazzo è? Lagga questo Bus mi, bus mi Il trisino mi nascosto Esatto Dai Ma che cazzo non l'ho colpito? No, no, no Che poi non me la mangi Dai, però mi ha frizzato Quando lo stavo colpendo Però, amorici Oh, t'ammazzo pure con i frizz T'ammazzo poi T'ammazzo Senza una zeta T'ammazzo Poi è bello Quando mi frizzo davanti a te A volte, tipo Hai presente? C'è i nomi che si muovono Ho visto qualcuno là sopra? No, scherzavo A volte si bloccano Dammi il lingotto Che lingotto? M***e, mi hai fatto più a un colpo? Chi t'ha preso? Non lo so Ma ne vavo tu fuori Che cazzo Cazzo, qualcuno con una freccia No, qualcuno invisibile Fermo? Vediamo se ci sono passi Ma mi sembra strano Impossibile C'è la posizione invisibilità No, ma poi Anche ci fosse Perché non smetti di colpirci? Cioè, perché ha smesso di colpirci? Ma secondo me Tipo, t'avrò colpito per sbaglio Io t'ho preso il danno dopo Perché frizzavo Madonna Hai buttato la gapple Eh, la stavo mettendo al posto suo Mi hai fatto via un colpo Ti sto Tra due minuti c'è il refill Allora stiamo qui Siamo qua Vediamo se arriva qualcuno Magari li ammazziamo C'è uno lì C'è uno l'ha shiftato Allora vedi, ci avevo visto bene Che c'era un pezzio in sopra Katniss È lui Cascato di sotto Madonna Che mi ha tirato la freccia Mi sa, ma il danno era da spada Però io sento il rumore della spada Dove sta? Ah, ritornavo dentro? No, non è ritornato dentro C'è uno che taglio Ma io è su cascato Ma io non lo vedo più Io lo vedo ancora, vedo il nick Si è shiftato di nuovo Che palle, pezzo di merda Eccolo, eccolo Questo so io Dove cazzo è andato? Non lo so È sparito Lo youtuber fantasma Eh, dietro No, siete Che palle Secondo me è tornato allo spam Poi ieri Arsi tre file Cioè, com'ha fatto? Non lo so Com'è? Torniamo allo spam Sarà di nuovo lì Ci ha fatto venire qui apposta Abbiamo 57 secondi Per ammazzarlo Prima del coso Cosa c'è qua? Il bagno Ah, si può postare al bagno Salve Re What? Eppure lui non lo sa E anche lui non l'ha capito Ma facciamo tutti quanti Punti interrogativo Ah, rec voleva scrivere Ah, rec Tutti Oh, sei fila No, piglia Che pooo Buono Vediamo se ci sono i diamanti Arriva free No, dai, un altro Non è free E' un altro E scappa E' libero Eh, lo lascia andare via A invegliere file E' so scemo C'è un tizio qua Ma pensavo fosse Madonna Ti busto Uno ero io Preso Preso Busto di a te No, ti ferma Pia le ceste Stiamo a inseguire un tizio E tu ti metti a ferma Pia le ceste Boom, ripreso Ma fai di spada in ferro Come faccio ad andarci di spada Se sta lontano un miglio Ripreso, madonna Con sti busti mi fai pigliare un sacco di volte Madonna Non ti passa davanti però Vieni Gaffanculo allora Vieni, 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 vieni Freeza, dai Che palle Come ho fatto a mancarlo Madonna, santa Madonna, ma mi prendi sempre Mi tocca che polare Che polare Dai, l'ho ripreso Cascato un pochetto Ancora non è morto E mi freeza Non si può Combatto il costo free Non mi panciare Quando ho il tiro con l'arco Ho finito quasi tutte le frecce E ne avevo 22 Ne avevo Dove è andato? Riperdo su Ecco, qua dietro L'ho ripreso Madonna, come l'ho preso stavolta E in mezzo all'acqua Dai Quante frecce c'ha questo Non le finisce mai Eh, può darsi Alcune ne riprendo io Alcune ne riprende io Dai, cazzo Abbiamo quasi ammazzato Mancano due minuti al game Questo qua non può arrivare al deathmatch Così Ho mangiato il pesce No, il pesce serviva Ma mi sono accennati in 360 Come cazzo ho fatto? Questo è bravo Oh, morto Oh, c'è l'elugia Bene, abbiamo fatto un 2v1 Non ti incazza troppo Ma è da un'ora e mezza E' pasta che stiamo registrando E sai com'è? Ci siamo un po' stufati Questo qua mi sa che è fatto In me con quell'altro, eh Perché ha detto 2v2 Ci sta, eh Ci sta Un minuto al tetto Ma mi freeza a merda Me cazzo Ti fai che polai? Una Se hai carote d'oro Mettiti le carote d'oro Nell'inventario rapido Che danno più rosturazione Oh, c'è lo youtuber qui Ce la spaventiamo Pure lui Levati, levati Fammelo puntare Scappa, scappa Sta scappando Aspetterà il deathmatch Ok, parte il deathmatch Siamo a fianco per fortuna Che ammazziamo prima? Free è messo discretamente Quell'altro secondo me però fanno team Siamo messi praticamente uguale Non mi freezasse, porco peppino Ok, questo qua lo ammazzo Io ho tirato 4 colpi Poi mi ha freezato Ok, uno l'ho ucciso Eh, io sto morendo del fuoco Mangia tira gap Ho 5 gap Madonna Ti servono delle gap A lui gli ho tirato una frecciata E un paio di colpi Dai Dai, freez Madonna, il freez mi ha salvato l'acciarino stavolta Però Preso GG Uh, GG Bella Pia i pes... Non te la pia la spada Andiamo, intanto facciamo a pesciate Pesce d'aprile si fa pesciate Pesciate Frecce E acciarino Dai, mangiatino a gap E iniziamo Ma che... Mi ha freezato Eh che, ti ho tirato un colpo Con un pesce Non hai fatto volare Eh, lo sai che i miei pugni sono forti Eh, volevi Eh, volevo sì Ti voglio buttare nell'altro fuoco Non mi fai danno Non mi fai neanche mezzo cuore No, no Mi sono levati i cuori dell'assorbimento a me Prima o poi dovresti... Perde qualche cuore, eh Ok, che è una lotta un po' così Dovremmo levarci l'armatura secondo me Per finirla Eh, mi sa anche a me Vediamoci l'armatura, va Fatto Via Ricontinuiamo da dove eravamo rimasto Ah, ok, senza che... Senza arco, si era detto No, l'arco si era detto di sì Tu davo pure le frecce Se te davo a fa' se non servivo Oh, la strif di... Oh, la combo Il giro della morte Il giro della morte Eh, e mi freezza Potresti mettermi l'accelino Quando dico mi freezza Però, beh, te non lo metti mai Minchia, oh, ti sto facendo salire sul tettuccio Vola via Vai nel fuoco Nel fuoco Sei andato? Madonna, sì, sì, ok Sei andato Ora vado di freccia Una L'altra non mi è partita Perché mi ha freezzato Un'altra gap Oltre mani, è finita No, ma hai aperto la... Lo so che ti ha aperto la cesta La cesta Boom Cazzo, la madonna Boom Ma fa' culo, ho culato di merda Ma hai aperto la cesta Sì, sono per quello E non mi girava E io freezzo Che vuoi da me Vabbè, basta 20 minuti di SG In SG più lungo Non si è mai visto A parte quelli da 120 E quelli da 40 minuti Contanto pure la registrazione Basta Ok, ragazzi Il pesce d'aprile è finito Chissà Minecraft cosa darà Come pesce d'aprile Intanto qua mi continuo a frizzare Se questo video più mi ti piace Commentate Iscrivetevi al canale Sono scritti Mi piace la pagina Facebook Passate dai link Da ICS Dalla pagina Facebook Da Instagram Che sono tutti in descrizione Avete capito Era un pesce d'aprile Era uno scherzo Stone continuerà a fare i video Ovviamente Ci sarò E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao ragazzi Ciao